Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa Occhio ai giornali di oggi mercoledì 6 aprile 2016. Sono le 7.30 e siamo in diretta naturalmente per leggere e sfogliare i giornali. Un saluto anche a coloro che ci seguono durante le repliche e on demand sul sito occhioanotizia.it. Oggi la Chiesa Cattolica ricorda la Beata Pierina Morosini. Ha una storia che la lega molto a Santa Maria Goretti. È nata nel 1931 e ha partecipato, ha aderito all'azione cattolica. Il suo destino tragico perché nel 1957, dieci anni dopo la beatificazione di Maria Goretti, dove lei ha partecipato a Roma, mentre ritornava dal suo lavoro, venne aggredita da un giovane che cercò di violentarla. Pierina prima cercò di farlo ragionare, poi fuggì. Il giovane la inseguì e la colpì con un sasso. Morì due giorni dopo senza riprendere conoscenza. La sua tomba divenne presto meta di pellegrinaggio, in particolare dagli aderenti dell'azione cattolica. Il sole è sorto alle 6.39, tramonterà le 19.41 minuti. Oggi avremo un cielo inizialmente nuvoloso, con nuvole basse e banchi di nebbia sulle zone pianeggianti, basso colinari. Le precipitazioni saranno solo sul primo mattino con brevi isolati piovaschi sui sibilini. Le temperature sono senza variazioni di rilievo, mentre per la giornata di domani, giovedì 7 di aprile. Avremo cielo poco nuvoloso sulle zone alto collinarie montane e con banchi di nebbia invece lungo la costa. Le temperature sono senza variazioni di rilievo. Vedete le precipitazioni soltanto in serata, deboli sulle zone dell'Appennino. Venerdì 8, ecco il peggioramento che tra l'altro era stato annunciato nei giorni scorsi. Cielo nuvoloso con addensamenti nelle zone interne. Le precipitazioni saranno deboli, diffuse anche a carattere di grovescio in particolare nel pomeriggio, con fenomeni in esaurimento in serata. In aumento nei minimi le temperature e nei valori massimi invece in diminuzione. Venti dai quadranti settentrionali. Per la giornata di sabato ancora transito di perturbazioni che determinerà fenomeni per la giornata di sabato e un miglioramento invece per il pomeriggio della domenica. Cominciamo a leggere i giornali. Dal messaggero di oggi c'è la novità, che poi non è tanto una novità, ma comunque è un rilancio di un'idea che tra l'altro aveva annunciato il sindaco di Urbino Gambini. Sindaco di Urbino Gambini che si è unito al sindaco di Fano Massimo Seri per rilanciare che cosa? Il sito, un sito nuovo dove costruire, secondo i due sindaci, il nuovo ospedale unico. E dove hanno pensato di proporre, a quale località hanno pensato per proporre questa soluzione, questa nuova soluzione? Monbaroccio. E allora andiamo subito sul giornale. Ospedale unico, asse Fano Urbino, si rilancia il sito di Monbaroccio. La proposta è del sindaco Gambini che trova Seri, il sindaco di Fano, d'accordo. Stasera Massimo Seri sarà qui in questo studio per primo cittadino, subito dopo il telegiornale per un'oretta risponderà alle vostre domande e evidentemente anche alle nostre e quindi chiederemo un po' lumi su questo nuovo rilancio. Mentre Marche Nord, l'azienda, è pronta a 17 nuove assunzioni di medici e 9 stabilizzazioni. A centropagina nel bagno di casa la serra per coltivare la marijuana. I carabinieri di Fano hanno arrestato un ventenne a Baia Metauro. Niente a che vedere con Baia Flaminia a Fano che non esiste da nessuna parte. Baia Metauro a Fano aveva questo appartamento e questo giovane di 20 anni, residente a Lucrezia, che da poco si è trasferito a Fano, aveva messo su questa piantagione all'interno. Vedete qui siamo nella doccia, nel box della doccia, qui c'è la fotografia pubblicata sul quotidiano romano. Il cantiere che oggi si chiude in via Cassi a Pesaro, via Cavour, è blindata, prosegue. Il cantiere da oggi chiude anche via Cassi, quindi non chiude il cantiere ma chiude la strada per dar modo di andare avanti con i lavori. Sotto invece la battaglia per il Lisippo, la statua che oggi si trova ancora al Polghetti Museum di Malibu negli Stati Uniti, la statua che è attribuita, lo ricordiamo, allo scultore greco Lisippo che è stata rivenuta nel 1964 da un peschereccio fanese che è arrivata negli Stati Uniti, secondo i giudici, in modo illecito. Ebbene riparte dunque questa battaglia per avere il Lisippo. Ieri mattina in regione ad Ancona è stata approvata all'unanimità la mozione presentata dai consiglieri fanesi Renato Claudio Minardi del PD e Boris Rappa dei socialisti per appunto far rientrare l'atleta vittorioso nella città di Fano. Le altre pagine del messaggero, questa è la pagina delle Marche, eccola qua il titolo Regione 10 domande a Banca Italia. Di sesto Banca Marche il presidente della Commissione d'Indagine Mirko Carloni anticipa i temi dell'audizione. Il 12 aprile è atteso in Consiglio regionale Roberto Cercone dell'Unità di risoluzione e gestione della crisi della Banca d'Italia. Comitato trasversale invece contro la pista ciclabile di cemento alla Baia e qui esiste, Baia Flaminia esiste da una vita, formato da ambientalisti 5 Stelle, sinistra unite e tecnici. Il nuovo gruppo già al lavoro sui punti critici del piano spiagge. L'altra pagina invece riguarda sempre Pesaro, la Movida, Movida che avrà qualche ora in più di musica durante le serate. Parte il provvedimento infatti da venerdì con musica fino a lunedì notte nei locali. I vigili urbani di Pesaro però interverranno solo dietro chiamata. Il comandante Galdenzi era sicuro e dice faremo rispettare l'ordinanza, noi siamo i garanti dell'accordo che è stato raggiunto. L'ospedale unico nasce l'asse Fanurbino e rilancia Monbaroccio. La proposta del sindaco Gambini trova serie d'accordo, l'ipotesi del sito non è nuova, l'aveva presentata Stefano Aguzzi. L'adeguamento alle norme europee porta Marche Nord, 17 assunzioni di medici e 9 stabilizzazioni. Sicurezza, la voglia di firme cozza con gli orari a Pesaro, legittima difesa, l'Italia dei lavori, oltre 70 adesioni raccolte in due giorni negli uffici comunali per sabato i 5 Stelle preparano i banchetti per la raccolta delle firme che riguarda la legittima difesa. Si firma a Pesaro, non so, non credo a Fano ma vedremo. Bellocchi invece, siamo sulla pagina di Fano, Bellocchi scommette sull'Ocean il supermercato più ampio, è prevista una galleria commerciale di 9.000 metri quadrati, quindi davvero grande. I sindacati dicono speriamo che il progetto di espansione porti a nuove assunzioni. Va benissimo invece, va il bilancio con i numeri che sorridono ad Aset Spa, la fusione dunque con la Holding si avvicina, la Presidente Capodagli parla di un obiettivo che è la società unica appunto, risultati ancora più buoni se l'unione con la Holding si fosse già realizzata e dunque non si fosse perso tempo. Mentre chi abita nella costa lungo Sassonia Sud da quelle parti tirerà un sospiro di sollievo nel vedere la nave carica di massi, di scogli, insomma imminenti lavori per sistemare le scogliere che devono arginare l'erosione lungo appunto quel tratto ormai noto e arcinoto. La pagina di Fano invece del Corriere Adriatico parla e si sofferma sugli utili aumentati e sulle tariffe ridotte di Aset, la Presidente consolida la gestione dell'azienda in vista della fusione, migliorata la produttività aziendale, il Comune dimezzerà il prelievo per finanziare gli investimenti e anche qui vedete la Regione unanime ridate l'Isipo a Fano, approvata una mozione che impegna l'assessore Pieroni ad attivarsi, soddisfazione di Rapa e Minardi. Mentre sotto studenti alla mensa di San Paterniano, sabato gli allievi chef e camerieri della Santa Marta di Pesaro saranno alla prova di un pranzo etico tipo Masterchef, insomma queste cose sabato prossimo alle 13 a servire il pranzo agli ospiti della messa di San Paterniano a Fano i quali potranno gustare un menù di alta classe. Mentre l'Istituto Bancario San Paolo di Torino ha finanziato l'opera fanese di caritativa ridando quindi l'infa alle attività e quindi dando la possibilità di riattivare anche, ha riconosciuto questo valore e quindi il ricovero notturno, le docce, i cambi, gli indumenti e ripristinare anche il secondo pasto giornaliero grazie appunto all'Istituto San Paolo di Torino. Controllo di vicinato contro i ladri, Letizia Conter apre una pagina Facebook e chiede al Sindaco di iscriversi all'Associazione Nazionale, poi una serra invece per marijuana nel bagno, consumatore ventenne arrestato per spaccio, blitz dei carabinieri all'alba. Flash mob, sempre a Fano per gridare no triv, ma l'appello è per dire sì alle urne. Mobilitazione contro la proroga delle concessioni per estrazioni in mare. Il vivaio, stiamo parlando del tiro a volo a Fano, subito nuove buone affermazioni, il vivaio lancia molti giovani promettenti. Altra pagina del Corriere, eccola qua, Fano vale del Cesano da Mondolfo, Bartolini, la RSA è a regime, ieri i primi ricoveri, 16 i posti letto di lungodegenza a disposizione. Poi il problema dei ciclisti che spesso, così come da una parte o dall'altra, perché bisogna dire che da una parte ci sono gli automobilisti indisciplinati, ma anche i ciclisti a volte sono indisciplinati e quindi poi che cosa provocano questi atteggiamenti incidenti. Come è successo a Mondavio? Sfiorato da un'auto, un ciclista cade a terra e resta ferito. Questo è accaduto l'altro giorno sulle strade per Mondavio. Invece sulla pagina del Corriere di Senigallia, ciclabile fino a Marzocca, sì degli operatori, restyling in centro, lavori in via delle caserme e al sottopasso Perilli che resta chiuso fino a venerdì. Andiamo adesso sul resto del Carlino, la pagina di Fano, campi di cannabis all'ex zuccherificio. Queste sono le idee in comune, è uno dei progetti elaborati dai gruppi di lavoro. Green Village, dalla lavorazione della canapa possono derivare tantissimi prodotti come benzina, gelato, vestiti e l'olio. Poi sotto invece anche qui la cronaca, serra di marijuana in bagno, è restato un ventenne, è destinato alla produzione un bilocale che si trovava a Baia, Metauro. L'altra pagina invece vediamo quella principale di Pesaro, la fotonotizia è per Umberto Piersanti che gli urbinati conoscono molto bene, racconta, questo poeta racconta il rapporto con Jacopo, il figlio affetto dalla sindrome e quindi affetto d'autismo, decine di famiglie aspettano il centro di sostegno alla celletta. Per quanto riguarda la nuova questura invece all'intendenza il sindaco Ricci spera, i sindacati sono critici, aspettiamo buone notizie, dice Matteo Ricci, i poliziotti invece sede insufficiente, è un errore. Sotto coltivare la marijuana nel bagno di casa. Andiamo nelle pagine interne del resto del Canino da Monbaroccio, il sindaco Ricci sul bilancio fa solo propaganda, il consigliere Muratori replica al sindaco, ha ereditato un comune virtuoso, dice lui nel 2013 l'avanzo è stato di oltre 131 mila euro. Fusione, i sindaci accelerano il referendum entro settembre, stiamo parlando della fusione Montemaggiore-Saltare-Serrungarina. Cappellini, si stimano risparmi di bilancio pari a 360 mila euro all'anno e maggiori trasferimenti. Dunque Montemaggiore-Saltare-Serrungarina spingono sull'acceleratore. L'obiettivo di questi tre comuni metaurensi e dei rispettivi sindaci che sono Alberto Alesi, Claudio Guccioni e Marta Falcioni è arrivare alla fusione di questi tre comuni e proprio in quest'ottica hanno organizzato un incontro pubblico questa sera alle ore 21 al centro civico di Villanova di Montemaggiore dove il relatore sarà Maurizio Mangialardi che è il sindaco di Senigallia e presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Quindi tutti questi tre comuni, i residenti di questi tre comuni sono invitati a partecipare e a sentire un po' come e che cosa intendono fare i loro sindaci. Sull'ospedale unico le ragioni di Chiaruccia invece. Titola così il resto del Carlino che fa un'analisi di costi e benefici, rischi e vantaggi, ecco il dossier commissionato dalla sindaco. Anche se cozza un po' con quello che è poi invece l'altra notizia che abbiamo letto poco fa dove il sindaco, dove qui presenta un progetto di là e dice vabbè però perché no, Monbaroccio, rilancia Monbaroccio. Da una parte rilancia Monbaroccio, dall'altra dice però noi abbiamo anche Chiaruccia. Fra un po' lo faremo a Montenerone. Terreno pianeggiante, proprietà pubblica, zero rischi idrogeologici. Questi sono i vantaggi, i punti di forza di questo progetto. Poi allarme furti, la polizia indaga per il furto di rame dagli impianti solari, per decine di migliaia di euro nel mirino la Simon Sola Raffalcineto, acquisiti i video, acquisiti scusate, i video delle telecamere per tentare di vedere e di scoprire o dare perlomeno un'identità, un volto a questi ladri. Anche qui vedete il cibo di solidarietà, la mensa di San Paterniano, algerivano gli chef dell'alberghiero. Poi in evidenza anche sulla pagina 12 del resto del Carlino la notizia e la battaglia per riprendersi l'Isippo. Pronti a nuove battaglie, il Consiglio regionale approva la mozione, mentre Aset Spa bilancio d'oro e calano pure le bollette. La rassegna stampa occhio giornale finisce qui, ci rivediamo domani mattina. Grazie per averci seguito. A voi tutti l'augurio di una buona giornata. Grazie a tutti.